Ivex 2017, siamo allo stand di Grefusa e ci troviamo in compagnia di Luca Zanibboni, il rappresentante italiano insieme anche agli altri componenti dell'azienda che sono i tuoi due fratelli, con Daniel Ross, il responsabile commerciale international per l'azienda. Intanto salutiamo Luca Zanibboni che con grande cortesia ci ha accolto del micro stand per poter dire che cosa presentate qui a Ivex 2017. Innanzitutto ci presentiamo, noi siamo i partner italiani di Grefusa, siamo l'azienda italiana che distribuisce Grefusa in Italia e siamo lieti di intervenire a Ivex proprio perché essendo Grefusa un'azienda distribuita a livello europeo, non solo europeo ma anche a livello internazionale, la presenza di Grefusa è sempre più importante anche nei vari mercati. Abbiamo delle novità anche da presentare, Grefusa è specializzata in snack salati, però salati di qualità, la qualità principale è la friabilità di questi prodotti, si distinguono proprio per questo tipo di caratteristiche e poi sono senza olio di palma, senza grassi idrogenati. Snatz è il marchio di Grefusa, Snatz significa snack naturale perché sono 100% ingredienti naturali. Snatz è un brand molto presente nella distribuzione automatica non solo in Italia ma in tutta Europa. Daniel, come nasce questa azienda che piano piano si è strutturata come un marchio indispensabile nel mondo della distribuzione automatica non solo italiana appunto come dicevo ma anche europea? Grefusa è una famiglia di famiglia di famiglia di famiglia di famiglia fondata nel 1929. Siamo molto forti nel mercato spagnolo, abbiamo una rivoluzione di 100 milioni di euro, abbiamo 600 emploi in Spagna. Quindi, la nostra brande per il mercato internazionale è una brande di snack, che è un snack di salute, senza olio di palma, è buono per le persone vegane. Quindi, l'Italia è il mercato più importante per noi nel Bending, quindi è per questo motivo stiamo cercando di lanciare nuovi prodotti e nuovi fasi per essere più forte qui nel mercato di Bending in Italia e in Europa. Daniel, io vedo che voi nel frattempo siete degli instancabili creatori di nuovi prodotti con nuovi gusti perché, ecco, io ero rimasto l'ultima volta che ho incontrato a Madrid sia te che il titolare dell'azienda con la presentazione di queste panettinas al formaggio che sono davvero un'edilizia per il palato, ma oggi qui a IVEX 2017 presentate anche altro. Sì, sì, abbiamo lanciato anche i mini bastoncini, qui è esclusivo per l'italiano market, abbiamo iniziato qui con kale e quinoa, e Zaniboni ha iniziato a introduire i operatori, questo funziona molto bene. In Spanio, in Grefusa, abbiamo lanciato ogni anno 15-20 nuovi SKUs ogni anno, e abbiamo 8-9 campagne su TV, quindi abbiamo cercato di sviluppare l'innovazione, per noi è molto importante per lanciare e per crescere, è la forma che abbiamo trovato per crescere. Grazie Daniel. Luca, voi nel frattempo in Italia avete inserito nel settore, nel segmento della distribuzione automatica, tra i vostri brand più seguiti, proprio il marchio SNATS. Quanto è importante per voi questo tipo di collaborazione e in che modo viene apprezzato dai gestori italiani? Noi abbiamo iniziato con il marchio SNATS, con le pipas e i boccaditos, però è importante che il marchio SNATS continua a evolversi in altri prodotti, Natu Chips è un prodotto molto importante che sta crescendo molto bene, è un misto fra mais e riso, senza glutine, tutte caratteristiche che adesso sono molto importanti, molto leggero anche, e anche i mini bastoncini è un altro prodotto molto importante insomma, per cui è un mercato dove siamo partiti con un prodotto, adesso abbiamo a catalogo circa 10-12 prodotti solo della linea SNATS, quindi vuol dire che è un mercato che sta crescendo molto bene. E per il futuro, cosa ci riserva il futuro in termini di novità di prodotto per Griffusa? Lo chiediamo a lui? Noi abbiamo già programmato, diciamo anche per il 2018, le uscite del 2018, abbiamo in programma tre grossi eventi, diciamo, importanti, uno sarà un legato al mondo dei boccaditos, uno altrimenti è legato sempre a prodotti simili della linea SNATS, quindi continueremo a presentare novità. E noi naturalmente ne daremo conto, come sempre, attraverso Vendingnews.it, il quotidiano della distribuzione automatica online, Vendingnews, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, e la newsletter settimanale, nella quale ormai siete presenti con una certa frequenza, proprio per informare sempre di più tutte quelle che sono le novità di Griffusa e del distributore italiano Dispensa Zaniboni. Amici, grazie, grazie mille. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a te. Grazie. E nel frattempo, mentre il profumo dei prodotti comincia a esasperarci, anche visto l'orario, noi continuiamo nel percorso all'interno di IVEX 2017 per documentarvi con microfono e telecamera tutte le novità presentate dalle 32 aziende presenti qui in questa microarea espositiva. Grazie a tutti.